Un'indiscrezione sull'attrice Alessandra Mastronardi sta facendo sognare le fan che non vedono l'ora di vederla vestita di bianco all'altare. Anche Alessandra Mastronardi sarà presto una sposa. Questa è la notizia che sta circolando sul web nelle ultime ore. Un'indiscrezione parla infatti della decisione dell'attrice e del suo compagno di convolare a nozze. Ma quando si terrà la cerimonia? Le fan non vedono l'ora che arrivi il grande giorno. La Mastronardi ha solo 35 anni ma ha già raggiunto molto successo come attrice. In molti la amano e l'apprezzano per la sua delicata femminilità, oltre che per la sua indiscussa bellezza. La giovane è diventata famosa con il suo debutto sul piccolo schermo grazie alla fiction, I Cesaroni. Da quel momento non si è più fermata ed in molti hanno apprezzato il suo ruolo nella serie. L'allieva, interpretata con Lino Guanciale. Alessandra potrebbe dunque presto seguire le orme del suo collega Lino, convolato a nozze lo scorso anno. Proprio il set fu galeotto per la Mastronardi e l'attore Ross McCall nel 2017. Oggi i due potrebbero presto diventare marito e moglie. Alessandra e Ross McCall si sono conosciuti nel 2017 sul set di About Us. Per i due fu subito amore, nonostante i 10 anni di differenza. L'attrice non ha mai negato gli alti e bassi della loro relazione ma questo non ha vietato ai due di costruire un amore stabile tanto da volersi sposare. Non si sanno notizie certe sul matrimonio. Le nosirano infatti già state rimandate lo scorso anno e l'attrice, in genere molto riservata, non ha ancora ufficializzato la data. Le indiscrezioni affermano che il matrimonio avverrà la prossima estate e che i due, già conviventi nella città di Londra, atterreranno in Italia per dire il loro, si lo voglio, alla presenza di amici e familiari. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.